Ciao, sono Betta e questo è il Glossare del Rispetto, la rubrica del Liguria Pride per parlare bene e pensare meglio. La parola di oggi è... Bandiera Rainbow La bandiera arcobaleno originale venne creata nel 1978 dall'artista queer di San Francisco, Gilbert Baker. Nel 1974 Baker venne presentato all'attivista Harvey Milk, colui che nel 1977 divenne il primo uomo apertamente gay ad essere eletto in California. Milk chiese a Baker la creazione di un emblema riconoscibile per la lotta all'emancipazione della comunità queer. L'artista cominciò a studiare i simboli utilizzati all'interno delle celebrazioni americane, fino a quando non ebbe l'idea decisiva. La prima versione della bandiera aveva otto colori, fucsia, rosso, arancione, giallo, verde, turchese, indaco e viola. Ma il fucsia non era un colore standardizzato all'interno delle fabbriche dei tessuti e quindi aveva un costo troppo elevato, mentre indaco e turchese si fusero insieme per diventare il blu. Nei due anni successivi quindi il design cambiò, fino ad arrivare alla versione che tutte e tutti conosciamo. Ogni colore della bandiera rainbow ha un suo significato. Rosso, vita, arancione, guarigione, il giallo significa la luce del sole, verde, la natura, blu, armonia e il viola, lo spirito. Nel 2017 è stata mostrata una nuova versione, con una striscia nera e una marrone, per rappresentare le persone nere all'interno della comunità. Poco dopo, il designer Daniel Quasar, ispirandosi al lavoro fatto nel 1999 da Monica Helms, aggiunse il colore bianco, rosa e azzurro in onore della comunità transgender, arrivando quindi a una versione più inclusiva della bandiera rainbow. Non dimenticarti di lasciare un like, condividere questo video e iscriverti al canale YouTube dell'Iguria Pride. Alla prossima!